Al carnevale solo cioccolate, niente caramelle. Cosa ne pensi? Benissimo. Meglio? Per me è una differenza, forse per i bambini qualche caramellina morbida non guasterebbe. Per me va benissimo che io mangio solo le cioccolate, denti non ne ho, perciò le caramelle non vanno bene. E niente caramelle? Va bene, va bene. Va bene? Va bene. E' meglio? E' meglio. Meglio? Meglio. Mi piace le cioccolate? Sì, meglio delle caramelle. Fondente o al latte? Fondente. Bene. Bene. Bene, mi piace cioccolata. Quindi meglio che misto caramelle e cioccolate? No, mi piacciono anche le caramelle, meglio un po' tutte e due. Quest'anno al carnevale solo cioccolate ma niente caramelle. E' un'ottima innovazione. Ecco. Di alta qualità posso garantirle. Benissimo. Che sono un amante dei dolci. E lo rendiamo ancora più dolce. Vero? No? Come dici? Amaro. Amaro? Fondente amaro. Meglio delle caramelle? Sì, decisamente. In linea rimaniamo. Ecco. Però insomma un getto soddisfacente, tanti dolciumi. Sì, sì. L'importante è che sia abbondante così rimaniamo tutti contenti, no? Visto che c'è tanta amarezza rendiamo un po' con il cioccolato tutto più dolce. Però il cioccolato fondente vince su quella là? Assolutamente. Decisamente sì. Eh, meglio così. Meglio così? Sì, assolutamente. Dai. Poi è il simbolo del carnevale di Fano. Fare anche un getto poco generoso non sarebbe carino anche per i nostri ospiti che vengono da tutta Italia. Giusto? Giusto. Quindi tanta tanta cioccolata. Assolutamente. Sì, tutti all'ingrasso. Eh, va meglio. Dai. Meno zucchero. Sì, poi il cioccolato fa bene. È un energizzante. Va meglio. Va meglio. No. Fatti baciare Al carnevale Al carnevale